Ciao a tutti, io sono Laura Cips e sono lieta di comunicarvi che da oggi anche il mio canale ha una sigla. Ringrazio di cuore Valeria per avermi fatto questa bellissima intro, sei stata veramente brava Valeria, veramente brava. Valeria mi ha anche fatto la sigla della Cips Challenge che potrete vedere da domani. Ebbene sì, domani inizia ufficialmente la seconda edizione della Cips Challenge. Allora, come l'altra volta, ogni giorno per sette giorni posterò un enigma. Stavolta verrà postato un po' più tardi rispetto alla volta precedente. Lo posterò intorno alle ore 13 e alle ore 22 chiuderò le risposte. Cioè nel senso, se volete potete continuare a rispondere, ma alle 22 io farò l'estrazione fra tutti quelli che hanno risposto correttamente. Come l'altra volta, il vincitore del premio tangibile, quindi del mazzo di carte che metterà in paglio, Max, sarà colui che risponderà più volte per primo. Ok? E invece per tutti gli altri estratti ci sarà un regalo diverso. L'altra volta vi avevo regalato i tutorial dei miei giochi. Stavolta ho deciso di fare un qualcosa di diverso, secondo me anche migliore. E ringrazio ancora una volta Valeria per avermi dato questa idea. Praticamente pensavo di regalarvi un gioco personalizzato. Per farvi capire che cosa intendo, vi invito a vedere il gioco che ho fatto a Gabriel Borden per il giorno del suo compleanno. Magari qualcuno l'ha già visto quindi sa di cosa sto parlando, altri no, quindi in descrizione lo avete. I vincitori dovranno fornirmi dei loro nomi, cognomi, date di nascita e magari se serve qualche altro dato ve lo farò sapere. Però io vi consiglio di non darmi proprio i vostri dati, ma i dati della persona a cui volete fare il gioco. Ok? Quindi vostra mamma, vostro papà, fidanzato, moglie, marito, nonno, zio, vicino di casa, di rimpettaio, chi volete voi. Però, allora, l'altra volta praticamente ho regalato un sacco di tutorial perché ad ogni estratto di ogni enigma regalavo un tutorial. E lo davo anche ad ogni miglior risposta alternativa, visto che era la prima chips challenge e quindi sono stata molto buona. Stavolta sono un po' meno buona, nel senso che regalerò solo 4 giochi personalizzati, quindi ci saranno 4 vincitori. Allora, il primo sarà quello che si porterà a casa il mazzo di carte più il gioco personalizzato. Gli altri due saranno i due estratti fra i 7 estratti della settimana, quindi ogni sera ne estrago uno, ogni giorno ci sarà un estratto, arriverò ad avere 7 estratti, giusto? Alla fine ci saranno i due estratti definitivi fra i 7. Mi sono spiegata? Il quarto, invece, sarà colui che mi darà la miglior risposta alternativa. Non sarà tramite estrazione, la sceglierò io in base a quella che mi è piaciuta di più nell'arco della settimana. Ok? Penso di avervi detto tutto. Ah no, una cosa ci tengo a dire. Non modificate le vostre risposte, perché altrimenti non posso tenere in considerazione la vostra risposta. Quindi, se magari vi viene in mente qualcos'altro, non cancellate la vostra risposta, non modificatela, ma aggiungeteci una risposta in più. Ok? Mi raccomando, non modificate le vostre risposte. Bene, penso di avervi detto tutto. Questa è la mia camera. Ci vediamo domani con l'inizio della nuova Chips Challenge. Vi aspetto, vi abbraccio. Ciao! 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 Grazie a tutti.